Giovanni Pinto e Francesco Magnati sono stati solo i botti iniziali, ma la batteria di fuochi d'artificio del Casarano è pronta a fare irruzione nel calcio mercato del girone H di Serie D. La prima volta di Pinto nel calcio dilettantistico dopo anni tra B e C, correndo sulla fascia sinistra di difesa con Monopoli, Ascoli, Pescara, Catania e Brindisi e un segnale ai naviganti. L'innesto di Magnati, attaccante classe 2006, passato dalle giovanili di Lecce e Virtus Francavilla, assicura un tassello a un pacchetto under che dovrà essere giocoforza robusto tra titolari alternative. Il weekend e l'inizio della prossima settimana porteranno però in dote altri annunci, fari puntati soprattutto su Nicola Lojodice. Il 31enne barese, trascinatore della team Altamura nel cammino promozione della scorsa stagione con 15 reti e 12 assist, ha da settimane raggiunto l'intesa con il patron Filograna e si attende soltanto il comunicato di Reto per farne il nuovo numero 10 rosso-azzurro. Lojodice non sarà il solo ex team Altamura a disposizione di Giuseppe La Terza, praticamente fatta per l'innesto del portiere brasiliano del 2005 Gabriel Fernandes, recordman di Clean Sheet nella scorsa stagione nel girone H. C'è un accordo raggiunto da tempo con Andrea Saraniti, attaccante autore di sette reti molto preziosi per l'ascesa dei Murgiani tra dicembre del 2023 e maggio del 2024. Sempre restando all'attacco si proverà a chiudere per Vincenzo Ferrara, 5 reti a Matera nella scorsa stagione, mentre in mezzo al campo, visto lo stallo con Gaetano Logoluso, anche lui ex Altamura, si accelererà il passo per arrivare a Leandro Terro, 33enne argentino che in Puglia ha già indossato la maglia del Martina e l'anno scorso ha giocato a Siracusa. In difesa, il leader che la terza vorrebbe è Gianmarco Rizzo, centrale l'anno scorso tra le colonne del Martina, ma già al Capozza nel Viegno 2021-23. Il tutto senza dimenticare conferme ormai imminenti come quelle di Dalena in mediana e Legittimo e Guastamacchia in difesa. Sullo sfondo resta un sogno di nome Giancarlo Malcore. Nelle ultime ore il Casarano ha provato ad alzare la posta per l'attaccante, ancora non convinto al 100% di voler scendere in Serie D. Ma la trattativa dovrà passare anche per le richieste economiche del Cerignola, che intanto ha intenzione di convocare il giocatore per il raduno in sede del 15 luglio. In C sul centro avanti c'è anche il Trapani, ma il Casarano è convinto di poter dire la sua nella trattativa.